Ragazzi io vi giuro che non sono io a cercare questi giochi o a trovarli, sono loro che trovano me, oggi giocheremo a Demon Child, ossia bambino demoniaco perché nei miei video cose normali, mai solo demoni, fantasmi, persone esplose, ma va bene così, saremo sua mamma, così piccola, e dovremo preparargli del cibo evitando il suo sguardo. Il suo sguardo per niente terrificante è disegnato su paint, sono riusciti a rendere terrificante un bambino disegnato su paint, su paint, su paint. Iniziamo? No vabbè, no vabbè il volume è il pezzo di pane, so che è un pezzo di pane perché noi dovremo prendere del pane, metterlo nel piatto, prendere la marmellata, metterla nel piatto, però succederanno cose... Ma non riesco, non riesco, non riesco neanche a respirare, mi sto già cagando addosso, test, play, oh sì, iniziamo, noi siamo questa personcina che assomiglia a Isaac, ma non fa niente, cambia solo il colore dei capelli, ok, con noi prendiamo il pane, sono forte! Ma? Ho già buggato tutto? Ho già rotto qualsiasi cosa? Vabbè, non ci faremo domande, pane nel piatto, bambino felice, pane non nel piatto, bambino triste, ha appena detto io ti vedo, io ti ficco il pane negli occhi, ah quindi va giù, ah! Vedete sul bigliettino in basso a destra c'è scritto evita lo sguardo, ma io come lo evito? Non così, fantastico, ho capi... ho capito! Allora, allora, tecnicamente, secondo la mia logica ingegneristica, vedete la marmellata che blocca le lacrime? Aspetta, ok, con il pane forse gli blocco la visuale, perfetto, piano, piano gli blocco anche... No, devo metterlo un pelo prima così da bloccargli la visuale meglio, perfetto, il problema non sono le lacrime, aspetta, aspetta, ok, vediamo, funziona, funziona, ok, 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 aspetta, 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 cominciamo a mettere un pezzo di pane nel piatto, con calma, che poi ci credo che è un bambino demoniaco, piange a destra, a sinistra, su, giù, non lo so, aspetta, aspetta, perfetto, perfetto! Allora, adesso, dobbiamo solo aspettare che vada di nuovo giù, prendiamo la gelatina e scappiamo all'istante! Maledetti capelli, voglio gli stessi capelli del bambino, ok, ok, gelatina, gelatina presa! Gelatina sul pane! Let's go! Ok, adesso due fette di paa! Due fette di paa! No, 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 bimbo, bimbo, oh, bimbo, sei molto calma! Ok, ok, con molta calma, aspetta, aspetta, vai! Allora, peanut butter! Ok, mettiamo il peanut butter! Oh, no, 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 no! No, no, fermati lì, fermati lì, stupido! Stupido! Stupido bambino! Ok, che cos'è? Oh no, oh no, ragazzi, oh no, quanto è veloce! Ok, questo gioco è anche leggermente impossib... Ah! Leggermente impossibile! Aspetta, aspetta, mettiamo questo, mettiamo questo! Dov'è? Raga Raga Dove vado Ma che cos'è Che cos'è quella roba Aspetta Ok posso farcela Devo solo mettere la gelatina Non questo ho sbagliato Ciao bambino Metto la gelatina Sì Ce lo fa No C'è che Aspetta Aspetta Allora già non si No No è impossibile No è impossibile È impossibile È terrificante Non vuole Vuole solo la gelatina 5 di gelatina Ok Non ci vedo niente È tutto buio 5 No 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 Bimbo 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 Ti colpisco Ti picchio Ok Ok non dobbiamo farci vedere Perfetto Siamo a 3 di gelatina nel piatto Questo non vuole neanche più il pane Vuole la gelatina Con il mangime per pesci Ok No No L'ho visto alla fine Non vedo niente Non vedo niente No 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 Figliuolo Io ti voglio bene Lo sai che ti ho cresciuto Con tanto amore No no figliuolo No figliuolo No figliuolo Non posso correre Ok 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 Citti tutti Siamo a 3 di mangime per pesci Non so cosa sia quella roba Figliuolo Figliuolo No 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 Ti prego Ti prego Ti prego Ok Ok No No stiamo Stiamo tutti calmi Va bene Ce l'ho fatta Perché non ce l'ho fatta Mi ho messi solo 4 No 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 Sei Ho vinto No è diventato Allora aspetta Due fette di pa No ragazzi è diventato impossibile No ragazzi 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 Lo vedete lì sopra E qui Ah Aspetta No 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 Sì quanto è veloce Non ha più gli occhi Allora 6 di gelatina Vediamo se riusciamo a farcela 6 di gelatina No 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 Ciao fratello Mi ricorda Mr. Tometo O come si chiama Tometo.ex Insomma avete capito Ok Dobbiamo mettere 6 di gelatina Ne abbiamo messi solo 3 4 5 È diventata un'equazione Stai buono Stai buono Perfetto Abbiamo messo 6 di gelatina Aspetta Abbiamo messo 6 di gelatina Ok Ok 6 di gelatina andati Poi 6 di sta roba Ok Vai Metti Ok Come mi ha ammazzato Come mi ha ammazzato No 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 Ehi voglio il var Voglio il var di come mi ha ammazzato Allora dobbiamo mettere 6 di gelatina Ragazzi Poi perché ho guardato in basso Che mi è uscito dalla scrivania No ragazzi Ma non mi aveva visto Vedi è lì sopra Ma non mi vede Allora Allora Uno di gelatina Mettiamo uno di questo E 6 di tutto Tranne che del pane No 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 Ragazzi questo gioco è totalmente impossibile Ma dove l'ho trovato Ma perché l'ho trovato E quella la vera domanda Io non ci volevo giocare a sto gioco Però è anche bello Cioè divertente No Lasciami in pace Bimbo maledetto Bimbo maledetto Allora Siamo a uno di tutto Poi Uno Eh facciamo Vabbè Tre Ok Quattro Cinque Cinque No 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 Sto fermo Un 2 e 3 stella Sei Poi Facciamo Uno Questo e questo siamo a due Perfetto Due Tre Ok No no Non mi seguire Lasciami in pace Ok Perfetto Andiamo dall'altra parte Mi sa che siamo a quattro di quello a destra Ok Quattro Cinque No 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 Dov'è Maledetto Dov'è andato No 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 è stato È stato troppo veloce No ragazzi è impossibile Ma quant'era veloce Ok quindi Sinistra su Destra giù Non sto capendo Non sto capendo Non sto capendo Ah fa solo così Ok Va bene Uno Ok Due Va bene Tre Tre Quattro 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 Lasciami 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 Che cinque Perfetto Sei Ok Poi Facciamo uno di questo Perfetto Vai 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 Mettilo nel piatto Non lo mette No ragazzi 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 Non lo mette nel piatto Ragazzi non lo mette nel piatto Io sto per impazzire Metti nel piatto Mettilo in quel piatto Devo bere Devo bere perché sto impazzendo Aspetta bambino Aspetta Ok ci sono Allora uno Contegro Ma io che cosa sto giocando Che cosa sto giocando Che cosa Basta Ma guarda quanto è lungo Guarda quanto è lungo Io ti voglio bene Sono tua madre Perfavore Lasciami perdere Perché questo non lo metto Dove lo metti Sono trasformato in Super Saiyan Guarda Guarda Adesso faccio tutto Il primo tentativo Uno Perfetto Lasciami perdere Come ha fatto Come ha fatto Da dove mi ha preso Ho capito che il gioco È stato disegnato su Paint Ma manca a far così Ok Qui non mi vede Che c'ha gli occhi grandi Quanto una galassia Però dall'altra parte Sì Va bene Va bene Nessun problema Adesso inizia a fare su e giù Aspetta Aspetta guarda Guarda Aspetta mi metto in mezzo Ok Ok piano Bravo Non mi fa posare Non me lo fa posare Ragazzi non me lo fa posare Guarda dove me l'ha fatto posare È tutto rotto Mannaggia Mannaggia Non me lo fa Posare Me lo fa posare Non me lo Sto premendo Sto Sto premendo Non stacco la tastiera Stacco la tastiera Ammorsi Stacco la tastiera Ammorsi Stacco la tastiera Ammorsi Io la stacco Io la stacco Stacco tutto Stacco tutto Vuoi dire che questo me lo fa Bambino Patti chiari Amicizia lunga Ti mando nel kindergarten Che c'è nuggets Che prendi Ti mangia vivo Perché non mi fa posare Le cose Che problemi hai Da prima ce l'avevamo fatta Non ti avvicinare Non ti permettere Se muoio di nuovo Faccio alt F4 Ti avviso che se muoio di nuovo Faccio alt F4 Se muoio di nuovo Faccio alt F4 Io ti ho avvisato Bambino eh Io ti ho avvisato Ok siamo a tre Quattro Perfetto Cinque Non mi vede Ok Facciamo sei E questo sei Li abbiamo messi Uno Ok Andiamo a prendere il pane Nel frattempo Perfetto Lo mettiamo qua Ok Prendiamo un altro pezzo di pane Dove è andato? No Ok siamo a Due di marmellata Perfetto Tre di marmellata Ok Quattro di marmellata No 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 Aspetta Cinque di marmellata Ok Cinque di marmellata Sei di marmellata No 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 Piano 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 Ok Ok bravo 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 Ok siamo a sei di marmellata E a sei di quelle cose a fianco Perfetto Uno di questo Perfetto Lasciamo in pace Dove va? Dove va adesso? Ok sto fermo Sto fermo Perfetto Adesso Due Ok Tre No Come mi ha preso? Basta 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 Grazie a tutti.